Eccoci qui. Su questo leggio c'è uno dei testi più belli musicali del nostro tempo. Adesso queste parole prenderanno colore, vita, grazie alla voce di un artista internazionale. Un artista che mi ha dimostrato la sua disponibilità, ma soprattutto la sua voglia di vivere attraverso la musica, che è l'unico linguaggio che ci fa legare in tutto il mondo. Sto parlando di Patti Labelle! Noi abbiamo preparato una cosa per voi, speriamo che vi piaccia. Ci abbiamo messo l'anima. Prego. Imagine there's no heaven It's easy if you try No heaven below us Above us Holy sky Imagine all the people you love Living for today Today Imagine there's no country It isn't hard to do Nothing to care Nothing to care Nothing to care Non è il momento di averlo Ma non è il momento di averlo Ma non è il momento di averlo Non è il momento di averlo Alcune giorni, alcune giorni Un momento di averlo Mi ragione, il mondo È il momento di averlo Ma non è il momento di averlo È il momento di averlo È il momento di averlo I ricordi se tu mi piace È il momento di averlo No need for greed or hunger No need for greed or hunger Messing up the people Shining on the world Ooh, ooh, ooh Here I am, sister I said that I'm a dream But I thought you were The only time The only time The only time The only time Here I am The world will be as one Ooh, ooh, ooh And the world Will be as one Oh, yes, oh, yes You will And the world Will be as one Oh, yes, oh, yes Oh, yes, oh, yes Oh, yes, oh, yes, oh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie tantissimo perché siamo riusciti a regalare a noi e a tutti quanti voi qui in questo teatro, ma soprattutto voi a casa. Credo un momento di magia, di vecchi ricordi. È un momento bello per me, grazie. Patty Labelle, 30 anni di carriera, milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Patty è una delle più grandi cantanti di black music del nostro tempo. E questa sera ci canterà If You Asked Me Too, tratto dal suo ultimo album Be Yourself. Questo brano è anche nell'ultimo film di 007. Grazie. Grazie.